Le escalation sono sempre così, quando partono nessuno ci fa caso, poi a mano a mano che spalanchi il vaso di Pandora ti ritrovi in una situazione che non puoi più controllare. Lo sanno tutti che abbiamo perso, quello che ha detto il Papa in chiaro, lo dicono tutti in privato, lo sanno persino le pietre che l'Ucraina e la Nato hanno perso perché hanno sbagliato tutti i calcoli. Due settimane fa l'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione von der Leyen che dice che la guerra finirà soltanto quando l'Ucraina avrà recuperato tutte e quattro le regioni annesse più la Crimea, cioè capisci la follia di questi qua. Se noi non sappiamo qual è il nostro obiettivo o fissiamo obiettivi impossibili come quello, ecco che l'invio delle truppe diventa inerità. Io mi auguro che questi qui vengano spazzati via alle elezioni europee perché l'alternativa è o salvare la faccia a Macron e a quelli lì o salvare la pelle nostra.